Ciao e benvenuto su Mondo Cane! In questo nuovo video oggi scopriremo insieme le caratteristiche di una razza canina forte e indipendente, l'Elkund norvegese. Prima di iniziare però ricordati di iscriverti al canale e di lasciare un bel like, in questo modo aiuterai il canale a crescere e te ne saremo davvero grati. L'Elkund norvegese, come si può intuire dal nome, è un cane originario dalla Norvegia. Si tratta di una razza con una storia millenaria. In passato venne selezionato per la sua abilità nella caccia alle alci, agli orsi e ai lupi. Oltre ad essere un ottimo cacciatore, l'Elkund norvegese era molto apprezzato come cane da guardia e da compagnia. E la diffusione di questa razza ebbe inizio dopo il 1901, quando venne riconosciuta ufficialmente nel proprio territorio d'origine. Per quanto riguarda l'aspetto fisico, si tratta di una taglia media, con una incorporatura robusta e muscolosa, che gli garantisce molta forza nelle zampe, caratteristica fondamentale per la corsa durante la caccia. L'altezza varia dai 50 ai 55 centimetri, mentre il peso tra i 20 e i 30 chili. Il mantello è sicuramente uno dei tratti distintivi di questa razza. È molto folto e resistente alle intemperie e quindi adatto a temperature rigide e alla vita all'aperto. Le colorazioni principali sono il grigio o il nero, mentre solitamente il sottopelo è di un colore più chiaro, quindi crea un contrasto molto particolare. La coda arricciata sulla schiena viene spesso descritta come una caratteristica che in passato durante la caccia permetteva di proteggere la parte posteriore del corpo dall'attacco di altri animali. Parlando del carattere, ci troviamo di fronte ad un cane intelligente e dal carattere forte, che creerà un legame profondo con la sua famiglia, partecipando alle attività familiari e dimostrandosi leale, coraggioso e affettuoso. È anche vero che l'Helkund norvegese è un cane molto indipendente e attento a ciò che lo circonda. Apprezzerà molto passare del tempo all'aperto svolgendo attività sia fisiche che mentali e sarà sempre attento e vigile, caratteristica che lo rende un ottimo guardiano. Proprio per questo motivo sarà fondamentale un percorso di socializzazione fin da cucciolo per permettergli di diventare un cane equilibrato nei confronti di altri animali ed estranei. L'Helkund norvegese non è un cane adatto alla vita d'appartamento, ha bisogno di ampi spazi e di svolgere molta attività fisica all'aria aperta. Infatti il suo padrone ideale è una persona attiva e dinamica come lui. Inoltre non è consigliato come primo cane proprio perché il suo carattere forte lo porta ad essere testardo, quindi sarà necessario che il suo padrone sia una guida coerente, gentile e che abbia esperienza nella gestione di caratteri forti. Questa razza ha un'aspettativa di vita che varia dai 12 ai 15 anni e gode di un'ottima salute generale. Come ogni cane può essere soggetto ad alcune patologie tra cui ad esempio la displasia dell'anca o la sindrome da dilatazione e torsione gastrica. Sarà fondamentale affidarsi da allevatori seri ed effettuare controlli periodici dal veterinario, garantendogli una dieta sana e bilanciata e un'adeguata attività fisica. Nel video di oggi hai scoperto le caratteristiche e qualche curiosità sull'Eckhund norvegese. Prima di scegliere il tuo amico a quattro zampe vi invitiamo caldamente ad informarvi sulla storia e sulle esigenze di questa razza e di rivolgervi ad un addestratore che saprà sicuramente consigliarvi al meglio. Se questo video ti è piaciuto ricordati di iscriverti al canale e commenta questo video scrivendo la prossima razza che vorresti vedere. Saremo felici di pubblicare altri video sull'argomento. Per oggi è tutto, se hai imparato qualcosa di nuovo e ti è piaciuto questo video lascia un bel mi piace per supportare il canale, iscriviti e attiva la campanella delle notifiche per restare sempre aggiornato per le prossime pubblicazioni. Da Mondocane è tutto, ci vediamo nel prossimo episodio, ciao!